Diritto amministrativo, video lezione numero 2, la funzione amministrativa. In questa video lezione tratteremo gli argomenti della nozione della pubblica amministrazione e gli atti politici e gli atti di alta amministrazione. Nozione di pubblica amministrazione. Il diritto amministrativo è il diritto della pubblica amministrazione. Sul concetto di pubblica amministrazione la dottrina ha elaborato due teorie. La teoria oggettiva, secondo cui la pubblica amministrazione è intesa quale attività diretta alla cura concreta degli interessi pubblici. E' la teoria soggettiva in cui la pubblica amministrazione è considerata l'insieme delle strutture atte ad esercitare lo svolgimento delle funzioni amministrative. Lo Stato è una particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio e che, a tal fine, si avvale di un apparato amministrativo. Pertanto, gli elementi costitutivi dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità. Tale nozione definisce il cosiddetto Stato ordinamento. Invece, per Stato comunità, si intende quella definizione in cui si dà più rilevanza al popolo. Per Stato apparato, invece, si intende quell'insieme degli organi che gestiscono la struttura organizzativa delle funzioni statali. Lo Stato amministrazione, invece, è inteso quale ente pubblico che agisce allo stesso livello degli altri soggetti dell'ordinamento. L'ente pubblico è dotato di poteri di supremazia, ma è soggetto, come i privati, alla legge. Lo Stato è titolare della funzione amministrativa, che mira a soddisfare le finalità del potere politico. Le funzioni fondamentali dello Stato sono le seguenti. Funzione politica, e cioè la scelta e l'individuazione dei fini primari dello Stato. Funzione legislativa, e cioè il riconoscimento dei fini dello Stato. Funzione amministrativa, e cioè il concreto perseguimento di tali fini. Funzione giurisdizionale, e cioè la tutela di questi fini attraverso la vigilanza. Gli atti politici e gli atti di alta amministrazione. Sono atti politici quelli in cui si estrinsecano l'attività di direzione della cosa pubblica e l'attività di coordinamento e di controllo delle singole manifestazioni in cui la direzione stessa si estrinseca. Gli atti politici servono a determinare le scelte politiche mediante le quali si individuano i fini dello Stato. I soggetti legittimati all'adozione di atti politici sono il governo, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, le Regioni, il Corpo elettorale. Tra gli atti politici sono ricompresi i decreti legge e i decreti legislativi, le sentenze della Corte Costituzionale, nonché gli atti formalmente amministrativi privi di forza legislativa o giurisdizionale, come ad esempio la proposta di nomina di un ministro, la dichiarazione dello Stato di guerra, eccetera. Gli atti politici si caratterizzano per la loro insindacabilità. Infatti l'articolo 7 del Codice del Processo Amministrativo, quindi ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 numero 104, esclude il ricorso al giudice amministrativo contro gli atti o provvedimenti emanati dal governo nell'esercizio del potere politico. E nemmeno i ricorsi amministrativi sono ammissibili nei confronti degli atti politici. Il potere politico, tuttavia, viene controllato e sanzionato dal corpo elettorale e dal Parlamento, i quali possono, ad esempio, non riconfermare i responsabili dell'adozione di un atto politico. Sono atti di alta amministrazione, quella speciale categoria di atti amministrativi, capace di raccordare l'indirizzo politico con quello amministrativo. Questi atti sono subordinati rispetto alla legge ordinaria e agli atti politici e, al pari di tutti i provvedimenti amministrativi, sono vincolanti nei fini da perseguire. A differenza degli atti politici, gli atti di alta amministrazione sono sottoposti al sindacato del giudice amministrativo. Il fondamento normativo degli atti di alta amministrazione si rinviene in due disposizioni normative. Nell'articolo 95 della Costituzione, laddove attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri compiti di unità di indirizzo amministrativo, oltre che di direzione politica del Governo. E poi, nell'articolo 2 della legge 400 del 1988, che riserva al Consiglio dei ministri, la competenza in ordine a tutti i provvedimenti di fissazione dell'azione generale amministrativa. Tra l'atto politico e quello amministrativo, vi è una categoria ibrida, espressamente chiamata atto amministrativo leggificato o legge provvedimento. Ci si riferisce agli atti formalmente legislativi che provvedono concretamente su casi rapporti specifici, attraendo nella propria sfera di disciplina materie e oggetti normalmente affidati all'attività amministrativa. La consulta riconosce l'ammissibilità delle leggi provvedimento, tenendo conto dell'insussistenza di una riserva di amministrazione e dell'inconfigurabilità per il legislatore di limiti diversi dall'osservanza del procedimento di formazione delle leggi.